salve Gianni come siamo in forma Gianni peccato quei capelli via Gianni adesso non è caso di nascondere la testa con l'acqua Gianni eh sì ma non basta perché fra cinque minuti i tuoi capelli sono peggio di prima ancora con l'acqua Gianni sì ma l'acqua da sola non basta su su Gianni non farti venire il complesso dei capelli come ancora con l'acqua lì Gianni lì è quello che ci vuole no Gianni quella ti unge i capelli no nemmeno quella ti inaridisce i capelli bravo Gianni per i tuoi capelli ci vuole Brill Cream Brill Cream è crema per capelli ad azione idratante Brill Cream è elimina l'aridità perché idrata i capelli al punto giusto e non unge i tuoi sono composti naturali perché Brill Cream tiene per tutto il giorno vedi Gianni per tenere a posto i capelli tutto il giorno ci vuole Brill Cream la crema per capelli ad azione idratante tutto il giorno vedi che è un'attività per la crema 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 per